Un altro contagio da legionella nell'Aretino si tratta di una donna di 90 anni con fragilità dovuta alla presenza di importanti patologie, spiega l'ASL, ospite di una RSA, nella Valdichiana Aretina. La donna è stata ricoverata presso l'ospedale della Fratta a Cortona, le sue condizioni sono stabili, nei prossimi giorni dovrebbe essere dimessa, fanno sapere i sanitari. Il servizio di igiene pubblica dell'azienda ha effettuato i campionamenti sull'acqua e sull'impianto idrico ed è in attesa dei risultati che non arriveranno prima di 15 giorni. Nel frattempo sono state prescritte una serie di provvedimenti per la sanificazione, successivamente saranno ripetuti i controlli. Questo per il territorio Aretino è il terzo caso di contagio, gli altri due erano state due donne ricoverate per motivi diversi e in tempi diversi in due strutture sanitarie private della città di Arezzo. Le due donne sono poi decedute in altri due casi, ma questa volta senza contagi era stata riscontrata la presenza del batterio della legionella negli spogliatoi di Estra, nella sede Aretina dell'azienda e nella scuola di Montagnano nel comune di Monte San Savino. In entrambi i casi le strutture sono rimaste chiuse per alcuni giorni, la scuola riaprirà il 23 di marzo, ma non è intervenuta l'azienda sanitaria.